Cresce del 5% nei primi sei mesi del 2015 l'export italiano, soprattutto grazie a progetti mirati a fare sistema. A Parma prende via un progetto di cooperazione a favore di piccole e medie imprese che vogliono allargare il proprio mercato all'estero. Investire nel Made in Italy e fare squadra superando gli individualismi, una ricetta che premia le aziende che guardano l'export come possibilità di sviluppo e di risposta alla crisi. Molto incoraggianti i primi risultati del 2015. Il piano Made in Italy, quello fatto dal Ministero Sviluppo Economico con l'Ice e con la Confindustria, ha portato come risultato nel primo semestre di quest'anno un più 5% sulle esportazioni. Quindi direi che già è un obiettivo molto importante. Crescere attraverso l'internazionalizzazione è anche l'obiettivo del progetto No Profit Going International, messo a punto dal consorzio ELIS. Piccole e medie imprese a scuola dalle grandi aziende il cui unico fine è dare una mano al paese attraverso le proprie competenze con il coinvolgimento del mondo universitario. Giovani e grandi imprese internazionali tutti unite a favore del Made in Italy e delle imprese italiane che hanno grande potenziale di andare all'estero ma spesso catturati dal day by day, catturati dal quotidiano, non hanno il tempo per pensare, riflettere e esplorare nuovi mercati. Noi operando in così tanti paesi, perché operiamo in 220 paesi, possiamo mettere anche a disposizione il network dei nostri colleghi che dal Brasile agli Stati Uniti all'Asia alla Cina possono dare il loro contributo e aiutare anche le aziende italiane che vogliono affacciarsi in questi paesi dove l'aspetto culturale è fondamentale. Il progetto ha preso il via nel cuore di Parma, nella sede storica della Barilla, oggi diventata cornice dell'Accademia che porta il nome dell'azienda. Da qui è partita la crescita in Italia prima e poi a livello internazionale dopo, negli anni 90, all'inizio degli anni 90 Barilla aveva oltre il 90% del proprio fatturato fatto in Italia, oggi fortunatamente la nostra crescita internazionale è molto significativa e abbiamo una quota parte del nostro fatturato, circa il 50% che è realizzata in mercati diversi dall'Italia. Flavio Isernia, Sky TG24 Parma